Promuovere pratiche sostenibili nel settore oreca evidenziando l'importanza di una transizione ecologica non solo nel Salento ma anche a livello nazionale, con un focus sulla sostenibilità nel settore food and beverage e sull'impatto ambientale degli imballaggi alimentari. Su questi temi si sono confrontati a Taviano rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore nel corso dell'evento Beverage for Future. La rivoluzione green nell'oreca parte dal Salento promosso da Antonio Portaccio, presidente di Italglobe, la federazione italiana dei distributori oreca. Abbiamo messo insieme istituzioni e mondo dell'industria e della distribuzione per cercare di far capire che insieme si può aprire un fronte perché ci veda alla fine vincitori tutti nell'andare ad immettere nella nostra atmosfera meno CO2. Scegliere prodotti con imballaggi ridotti o realizzati in materiali riciclabili o compostabili, questa la necessità e l'urgenza emersa più volte nel corso degli interventi dei due dibattiti che hanno animato l'evento durante il quale è stata sottolineata l'importanza di un'economia circolare che permetta di rilanciare una nuova consapevolezza comune dove l'aspetto economico torna su un piano di equilibrio con quello ambientale e sociale per tutti gli operatori del settore. Il futuro sicuramente sarà quello che tutte le aziende dovranno cercare di raggiungere questo obiettivo perché bisogna restituire al territorio quello che il territorio gli dà e contribuire ognuno nel suo piccolo ad aiutare questo pianeta.